Allora prima di parlare del commentario che vedremo, siccome l'abbiamo riuscita in festa siamo molto animalisti, anzi per far parte dello staff è il primo requisito che ancora ci siano un po' di fede. Abbiamo invitato i ragazzi della Lab con un soggetto con le uovi di Pasqua e quindi adesso vi passiamo un attimo la parola. Grazie mille, appunto noi siamo della Lab, per chi non ci conosce è legato di risenzione, un'associazione animalista, io sarò veramente breve. Noi tutti gli anni siamo presenti nelle piazze italiane per chiedere dei cambiamenti legislativi, questo vi è finalizzato a chiedere una riduzione per le spese veterinarie, o meglio la tassazione del 22% sugli animali familiari perché a livello legislativo l'animale viene ancora considerato come un bene di russo e conseguentemente tutte quante le spese che ci sono dietro, quindi non solo cibo e spese veterinarie, sono tutte quante tassate del 22%. Per noi non solo è importante per la vita delle famiglie, siamo in tanti, immagino ad avere un animale dentro casa, ma perché è un buon incentivo anche per combattere l'andaggismo. Se le famiglie potessero essere incentivate a prendere un canile come molti vogliono, in realtà con una riduzione delle tasse ci penserebbero più volentieri. Quindi noi chiediamo di sostenerci con una firma e chi vuole sostenerci anche a livello economico, chi ha la possibilità dell'uomo e dell'uomo solidale. Io mi occupo l'altro tempo e quindi ringrazio veramente il cuore dell'organizzazione per questo passo e ciao a tutti.